Ad aprile scorso mamma Marianna e papà Cristian hanno scoperto che la loro figlia più piccola di 4 anni, Giada, era affetta dall'eucemia linfoblastica acuta di tipo B. I genitori di Bitonto sono riusciti a salvare in tempo la piccola, con le cure presso l'ospedale Giovanni XXIII di Bari. Ma da quel giorno è iniziato davvero un periodo buio per noi, in cui ci siamo sentiti soli, raccontano i genitori. A peggiorare la situazione anche il momento pandemico, che ha portato via il lavoro al papà della piccola e l'incendio dell'auto di famiglia. Fortunatamente però non esiste solo la parte brutta di Bitonto, perché in molti ora ci stanno mostrando la loro solidarietà, dicono i genitori. Giada sta meglio, qualche giorno fa abbiamo saputo che può fare la terapia a casa, ma il rischio che la malattia si ripresenti è alto. Tra le varie iniziative pubblicizzate sulla pagina Facebook Tutti con Giada, vi è un frontino per Giada, che è possibile acquistare in varie attività commerciali e mercatini anche online di Bitonto, la disponibilità dei volontari della Saspuglia ad accompagnarli alle visite per la piccola, l'asta del Museo del Bari, delle magliette e oggetti della squadra. Anche i campioni del Bitonto, Nicola De Santis e Carlos Turubiason, hanno messo all'asta la loro maglietta autografata. Un abbraccio intanto va a Giada, nella speranza che presto possa guarire.